Per un frizzante capodanno alcuni italiani hanno deciso di prendere il volo verso 9 metri per iniziare un buon 2011. Mr.Blog vi indica quindi i tre migliori siti di last minute. In terza posizione abbiamo viaggerrete.it Il portale presenta offerte ottimi last minute. E' recensione dalla redazione ma anche gli utenti possono dire la propria. Si possono sbirciare in tutte le mete attraverso una webcam. Fantastico. La cosa straordinaria di questo sito è la sezione dedicata a chi vuole partire col suo piccolo amico a quattro zappe. In seconda posizione c'è Zingarate.com che subito accoglie l'utente con un box di video di viaggio attualmente dedicato al capodanno. La grafica è pulita, la medicazione è semplicissima. E' possibile organizzare la propria vacanza passo a passo selezionando volo e hotel o affidarsi alle offerte ma anche ai consigli del forum dove la community condivide foto delle proprie vacanze e dove è possibile trovare anche dei compagni di viaggio. Il tutto all'insegna del low cost. Il vincitore al primo posto per un viaggio al top abbiamo turistipercaso.it con i famosi Pat e Susie a guidare in utenti, luoghi esotici o in quelli nostrani. In Capodanno a Parigi o in Kenya il loro portale ti aiuta nella scelta dell'ultimo viaggio dell'anno. E' possibile entrare spunto dalle foto, dai video di qualsiasi destinazione del mondo. Consultare la sezione dei guide per caso o leggere articoli del cartaceo turistipercaso magazine. Addirittura disponibile l'applicazione iPad. Insomma, questo è un sito dove ti porta in nuove mete straordinarie e veloci. Ricapitolando al volo, al terzo posto viaggerrete.it, al secondo posto zingarate.com, al primo posto vincitore turistipercaso.it. E con questa la nostra classifica si chiude. Mr.Blog vi augura un buon anno a tutti e un grande brindisi per questo frizzante 2011. Grazie a tutti! Tecnologica Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!